Oggi è stata una giornata positiva, ci siamo incontrati a un tavolo tecnico tra farmacisti, farmacologi, medici di medicina generale, specialisti ospedalieri e nella riunione, nella discussione sull'utilizzo e la promozione dei farmaci biosimilari, sono emerse alcune importanti novità, alcune decisioni importanti che ci hanno spinto a promuovere anche un documento sull'utilizzo e sullo sviluppo in pratica dei farmaci biosimilari perché è riconosciuto da tutti che sono una vera opportunità che ha il sistema sanitario nazionale per rendere più sostenibile la spesa in ambito farmaceutico e quindi dare l'opportunità poi ai clinici di poter trattare i pazienti anche con i farmaci innovativi andando a recuperare risorse economiche proprio anche tramite l'utilizzo dei farmaci biosimilari. Si è parlato di continuità terapeutica, dei problemi legati alla proprietà prescrittiva, alla continuità di cure, ma soprattutto anche si è fatto un focus importante sulla gestione e la struttura delle gare, come impostare le gare, gare ospedaliere e anche gare sulla farmaceutica territoriale per poter dare l'opportunità ai clinici di avere il farmaco migliore a disposizione senza generare conflittualità o imposizioni che poi vengono viste negativamente anche da parte dei clinici e si creano conflittualità che non portano beneficio al sistema, ma dobbiamo comunque lavorare collaborando e promuovendo l'utilizzo di questi farmaci biosimilari.